Buongiorno a tutti, sono il professor Andrea Staiti, insegno filosofia morale all'Università di Parma e oggi vorrei presentarvi in pochi tratti il corso di studi filosofici, che è il percorso triennale in filosofia del nostro Ateneo. Il corso di studi filosofici ha come suo obiettivo quello di dare ai nostri studenti le basi, i fondamenti per diventare pensatori, per diventare persone capaci di riflettere, di padroneggiare i concetti della filosofia e di applicarli ai problemi e alle domande che caratterizzano il nostro presente. Il corso di studi filosofici non presuppone un sapere filosofico già costituito, noi abbiamo cercato nel costruire l'offerta formativa di tenere conto sia dell'esigenza che chi comincia a studiare da noi abbia tutti gli strumenti, tutte le basi appunto per potersi orientare, per poter lavorare in maniera efficace nello studio della filosofia, sia anche perché ciascuno possa ritagliarsi all'interno del corso di studi, un percorso adatto alle sue esigenze, adatto ai suoi interessi e quindi potendo scegliere anche delle materie, degli esami che gli sono particolarmente congeniali. Come dicevo prima, essendo un percorso triennale è articolato su tre anni, nel primo anno abbiamo una rosa di insegnamenti un pochino più diciamo regimentata, ma piano piano nel primo, nel secondo, nel terzo anno c'è sempre una certa quantità di crediti che sono interamente a scelta per gli studenti. Si comincia appunto con qualche credito a scelta nel primo anno per poi arrivare al terzo anno ad avere una quantità più significativa di esami appunto che lo studente può scegliere in maniera completamente libera. Questo abbiamo visto negli anni funziona bene perché tutti arrivano più o meno a metà del percorso avendo una base solida a partire dalla quale poi appunto possono andare a immaginare quelli che sono gli approfondimenti che più gli interessano. Quali sono i punti di forza del percorso di studi filosofici e in particolare quali sono i punti di forza della filosofia diciamo così a Parma. Dunque innanzitutto io credo che il primo punto di forza sia il rapporto docenti-studenti. Il corso di studi filosofici e in generale l'unità di filosofia a Parma è tale per cui noi riusciamo a dare un'attenzione individuale ai nostri studenti. I numeri sono tali che ci consentono di conoscere i nostri studenti per nome, di sapere chi sono, di sapere cosa gli interessa, di seguirli davvero in maniera individuale e questo è un grande vantaggio a mio avviso rispetto ad Atenei magari più grandi dove i numeri per ovvie ragioni non consentono un percorso, una personalizzazione appunto del percorso di studi. Il secondo punto di forza mi sento di dire che è nel corpo docente. Noi a Parma abbiamo la fortuna di avere, di essere uno dei team diciamo di filosofia più internazionali d'Italia. Abbiamo docenti che sono arrivati a Parma da diverse parti del mondo. Io ad esempio sono arrivato quattro anni fa da Boston, dagli Stati Uniti. Abbiamo colleghi che vengono dall'Austria, che hanno studiato in Canada. Quindi abbiamo la fortuna di essere appunto nel cuore dell'Italia, in una città molto vivibile, molto bella, ma al contempo di avere un respiro internazionale. Questo si vede, come potete vedere poi dal sito, dalle pubblicazioni e si vede anche dalle iniziative che purtroppo in questo periodo di pandemia sono state un po' penalizzate, ma come vedrete il nostro gruppo di filosofia si è reso protagonista appunto negli anni di tante iniziative, tanti eventi, convegni, seminari, workshop che hanno visto venire a Parma alcune delle personalità più importanti della filosofia mondiale. Quindi diciamo il secondo punto di forza è avere un gruppo di professori appassionati di quello che fanno con un respiro internazionale, ma in un ambiente che è familiare e che è, diciamo così, a misura di studente. Il terzo punto di forza, che ho già accennato prima, è la possibilità di combinare rigore e flessibilità, per cui noi abbiamo provato a pensare a un percorso che non sia tale per cui lo studente magari rischia un po' di perdersi, come a volte succede in quei percorsi dove è tutto soltanto a scelta, però appunto a questo rigore si accompagna anche la possibilità di discutere sempre con i docenti e con i tutor. Voi avrete appunto due tutor individuati tra gli studenti del proprio percorso di studi e, come dire, noi siamo sempre più che disponibili a venire incontro alle vostre esigenze, ai vostri desideri e a darvi tutto quello spazio di approfondimento che c'è possibile darvi. Ok, passando a una domanda forse più generale, ci potremmo chiedere due cose, cioè perché intraprendere un percorso di studi di filosofia oggi? Quali sono le prospettive, quali sono anche gli sbocchi professionali e che cosa facciamo noi a Parma, in particolare, per prendere sul serio questa dimensione? Dunque, innanzitutto va detto questo, che la scelta di filosofia come percorso di studi, come è vero di altre discipline, tra virgolette, pure, non è un percorso anzitutto professionalizzante, cioè non è votato a insegnarvi un mestiere particolare. Questo però io credo che non sia un punto di debolezza, ma credo sia un punto di forza, nel senso che lo studio della filosofia si intraprende non tanto per un calcolo utilitaristico, cioè faccio questa cosa per poi andare a fare quest'altra cosa, ma credo si intraprende, se si decide di farlo, per passione, per interesse, per l'idea che spendere tre anni della propria vita leggendo, riflettendo, studiando appunto alcuni dei testi più importanti della storia, della cultura umana, è un qualcosa che vale la pena di per sé, che non ha bisogno di una giustificazione esterna. Questo però non vuol dire che sia un percorso fine a se stesso, tutt'altro, quello che noi abbiamo notato è che proprio questa capacità di pensare criticamente, di orientarsi in dei testi complessi, di analizzare i problemi e i concetti, che è caratteristico dello studio della filosofia, dà delle competenze, dà delle skills che sono altamente trasferibili anche in altri ambiti lavorativi. Quindi in sintesi, perché studiare filosofia oggi? A me viene da dire per lo stesso motivo per cui si poteva studiare ieri, cioè perché ci interessa, no? Perché è un tema interessante che ci dà l'impressione di spendere bene il nostro tempo quando ci alziamo la mattina. Che cosa questo può comportare, quindi poi come prospettive ulteriori? Beh, anzitutto credo che chi intraprende lo studio di filosofia non possa non tenere aperta, almeno come possibilità, quella conseguenza quasi connaturata a questo tipo di studi, che è l'insegnamento. L'insegnamento nelle scuole superiori o l'insegnamento anche a livello accademico, sebbene sia una strada forse più accidentata, però insomma il desiderio di trasmettere quello che si è studiato e di andare avanti appunto a studiarlo, sicuramente se uno è appassionato di filosofia, dovrebbe essere un orizzonte in qualche modo desiderabile. Questo è anche il motivo per cui noi nel nostro percorso di studi abbiamo messo alcuni esami di storia, questo perché, come sapete, la classe di insegnamento è quella di storia e filosofia, per cui chi fa il percorso di studi filosofici a Parma, poi alla fine in qualche modo ha già il presupposto, almeno alcuni dei crediti che sono necessari per essere poi abilitati a insegnare nel settore di riferimento. Tuttavia la filosofia come studio non dà soltanto l'insegnamento come sbocco, noi abbiamo tanti studenti che finito il loro percorso poi si sono orientati nel mondo del lavoro in azienda, piuttosto che appunto nel settore dell'editoria, nel settore della gestione dell'amministrazione di enti pubblici. Ci sono diversi ambiti in cui il tipo di preparazione che dà lo studio filosofico si rivelano profondamente attinenti, profondamente utili. Questo anche perché, questa è una nota diciamo così di esperienza personale, quello che io ho notato in tanti studenti che ho avuto sia negli Stati Uniti sia in Germania sia qui, chi studia la filosofia generalmente è qualcuno che poi è bravo a imparare, per cui avendo imparato un metodo, avendo imparato una struttura, avendo un approccio diciamo sistematico ai problemi, solitamente anche se magari gli manca la competenza specifica che richiede un posto di lavoro in cui poi si trova appunto ad operare, generalmente chi ha studiato filosofia in breve e senza senza troppe difficoltà acquisisce anche quelle abilità specifiche che il contesto lavorativo in cui si va a trovare richiedono. Diversamente da chi magari ha un sapere più particolare, più regimentato, che però ha meno versatilità da questo punto di vista. Devo dire in questo che sono stato sempre molto positivamente colpito anche dalle carriere, dagli sviluppi che gli studenti che ho avuto il piacere di seguire poi sono stati in grado di intraprendere. Il percorso di studi di filosofia all'Università di Parma non finisce con studi filosofici. Un altro punto importante è proprio che appunto dopo la laurea triennale è possibile proseguire con la laurea magistrale in filosofia. La laurea magistrale di cui ha parlato la mia collega Irene Binini è un percorso biennale interateneo che quindi dà poi la possibilità appunto di approfondire ulteriormente e anche allargare la rosa di docenti e quindi di stimoli che ciascuno degli studenti poi riceve. Non solo, dopo la laurea triennale e dopo la laurea magistrale, a Parma è possibile anche completare diciamo il percorso accademico volendo con un dottorato. Il dottorato di ricerca è un percorso che prevede appunto un concorso, una selezione e che in qualche modo fa muovere i primi passi nel mondo non soltanto dell'apprendimento eccetera ma proprio della ricerca in senso produttivo, in senso diciamo creativo. L'ultimo punto che accenno soltanto e che però chi viene a Parma è bene appunto che sappia e che tenga a mente fin da principio, noi abbiamo la fortuna di avere molte partnership con Atenei di assolutamente eccellenza all'estero, sia in Europa sia per esempio negli Stati Uniti come l'Ateneo dove lavoravo prima io che si chiama Boston College, ci sono diverse possibilità di completare, di fare parte del proprio percorso di studi all'estero. Questa è una bellissima occasione sia per lo studio delle lingue sia appunto per l'ampliamento dei propri orizzonti. Ovviamente d'obbligo dire che in questa fase ancora di emergenza sanitaria questi programmi appunto sono in stand by ma sono già in, come dire, in carreggiata per essere ripresi non appena le condizioni lo consentiranno. Non solo è possibile andare all'estero appunto da Parma ma a Parma vengono anche regolarmente visiting professors da altre università, da altri Atenei che arricchiscono la nostra didattica e ci danno appunto la possibilità di aprirci allo scenario della ricerca filosofica internazionale. Concludo dicendo che io e i miei colleghi siamo tutti volentierissimo a disposizione per qualunque domanda voi abbiate rispetto al nostro corso di studi. Trovate tutti i nostri indirizzi, tutti i nostri riferimenti sul sito. Il sito è uno strumento con il quale appunto dovrete familiarizzare. Lì trovate anche l'ordinamento degli studi per cui i titoli degli esami eccetera. Tutte cose che poi appunto si possono guardare con più calma nel momento in cui uno poi così va a finalizzare la propria decisione. Nel frattempo noi ci siamo per dare tutta l'assistenza, per rispondere a tutte le domande che avete e speriamo di potervi incontrare e di potervi dare il benvenuto a Parma per il corso di studi filosofici nel prossimo anno accademico. Grazie.